I 150 anni dell'unità d'Italia, una pagina di storia, dunque quando i fratelli Bandiera e i loro compagni sbarcarono in Calabria a far loro da guida c'era un calabrese, si chiamava Giuseppe Meluso, anche lui come gli altri trovò la morte in nome dell'unità del paese. Vediamo questo servizio. Il pomeriggio del 16 giugno del 1844, alla foce del Neto, nei pressi di Crotone, si accosta alla terraferma una piccola nave dalla quale scendono non liste 21 persone. A capo vi sono Emilio Dattilio Bandiera, due ufficiali della Marina Ostriaca appartenente alla Giovan Italia di Mazzini. Avevano avuto notizie che in Calabria la popolazione era pronta ad insorgere contro la tirania dei Borboni. A guidarli un calabrese, originario di San Giovanni in Chiore, Giuseppe Meluso, che conosceva palmo a palmo il territorio, ed un corso, Pietro Boccheciampe. Un compagno di avventura, che però una volta sbarcati, non seguì la committiva degli uomini della libertà, anzi andò a denunciare lo sbarco dei clandestini all'ispettore di polizia Buonafede, raccontandogli i proponimenti degli uomini della spedizione. Il gruppo fu intercettato, verso la mezzanotte del 18 di giugno, presso il valico di Pietralonga, nei pressi della sommità di Timpa del Salto, dalle guardie civiche di Delvedere Spinello. Ne eseguì un violento scontro a fuoco, gli esperidi però non registrarono perdite di uomini. Dopo il conflitto di Pietralonga, il d'appello dei patrioti accelerò la marcia, e verso mezzogiorno del 19 giugno, giunse al casino dei Vildoi, di proprietà di Lopez, una famiglia di feudatari sangiovannesi. Qui i mezzadri riconobbero il nonuso e informarono di quella presenza il padrone, che immediatamente avvisò la guardia urbana di San Giovanni in Chiore, la quale si immobilitò rapidamente, e affiancata sicuramente anche da privati cittadini, si mosse verso quelli che si credevano degli aggressori e dei briganti. I sangiovanesi si appostarono sulla strada per Crotone, dopo il valico sul Monte Gimmella, in località Stragola, all'inizio della pineta silata. Ed è qui che arrivarono verso sera, ormai stremati, i venti patrioti. Sul colle Siano caddero trafitti dal fuoco delle guardie urbane Giuseppe Miller e Francesco Tesei, mentre Emilio Bagniera e Domenico Moro, insieme ad altri compagni, rimasero feriti. I prigionieri, portati prima a San Giovanni in Chiore e successivamente a Cosenza, furono processati e condenati a morte. Il 25 luglio, nel vallone di Rovito, a Teglio e Emilio Bagniera furono fucilati, insieme con altri sette compagni. Si pose così fine, a sogno di libertà di quegli uomini venuti da lontano, che volevano fare dell'Italia un'unica grande nazione. Grazie. 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 Grazie.